Nella mia mano ho un oggetto importantissimo per la Pixelcraft Ed è questa, la Max Soap E questo oggetto potrebbe giga evolvere anche il mio Charizard Shiny Che ho proprio qua davanti ai miei occhi, che ho appena droppato in campo Ebbene campioncini, io oggi darò questa Max Soap E a lui darò l'opportunità di giga evolversi Infatti come detto in chat ha guadagnato il Gigantamax Factor E in questo momento potrei giga evolverlo e sbloccare una versione di Charizard bellissima Ma soprattutto Shiny super speciale Ma questo succederà solo nel prossimo episodio campioncini Perché oggi lasciamo da parte Charizard Shiny Vi chiedo in questo momento di lasciare tantissimi mi piace Se volete che questo episodio speciale con Charizard Shiny Gigantamax Arrivi E campioncini, benvenuti e bentornati in questo episodio Abbiamo questo Eternatus Shiny che dobbiamo ancora controllare In più il mio Charizard base E là in fondo c'è anche un Garchomp Boss che ci aspetta Non ha ancora raggiunto il livello 100 Lui l'abbiamo già giga evoluto più di una volta Solo che in questo episodio voglio potenziarlo e portarlo fino al livello 100 Almeno lo potenziamo e lo bilanciamo con il resto della squadra Infatti ora abbiamo un team tutto quanto a livello 100 Solo che è da completare perché ancora non ho messo l'ultimo Pokémon Che andiamo a inserire il suitissimo che era i Quasashadow Oggi voglio girare con questa squadra Raflet spostati E se vi ricordate negli scorsi e ultimi episodi A parte quel Charizard Mega in fondo Abbiamo catturato Eternatus Nella sua versione Dynamax Questo è tanto bello quanto speciale e potente Perché come leggiamo assieme ragazzi Ha tutte le statistiche perfettamente bilanciate Non c'è una statistica che è più potente o migliore rispetto all'altra Ovviamente a livello di numeri sì Perché come notiamo ha una difesa devastante E un Pokémon d'acciaio Ma non solo Come notiamo gli HP sono 651 Ed è pressoché il doppio quasi di tutti quanti i miei Pokémon Che sono allo stesso livello Questo vuol dire che questo Eternatus è come se fosse un Pokémon Invincibile ragazzi È devastante Ora qua davanti abbiamo un Garchomp Boss Ultimate credo E lui è un Pokémon di tipo Drago Come il mio Eternatus Se non fosse che la battaglia si fosse buggata Ok ottimo Ora tornati in battaglia Quest'Eternatus non sono nemmeno che mosse possa avere Perché non è messo bene a livello di mosse Ha Eternabim però Che può fare tantissimo danno Ora come notiamo Garchomp Si sta comportando molto bene Bello che è potente Ma io dovrei attaccare per primo o no Ha attaccato comunque per il primo Garchomp Perché ricordiamoci ragazzi Ok il mio Eternatus è invincibile e tutto Ma ha 40 livelli in più del mio Pokémon Ora vediamo se con Raiquaza Nella sua versione Shadow Possiamo eliminare Garchomp con oltraggio No cosa è successo? Mi ha eliminato tutto Vabbè paralizziamo Garchomp per favore Che mi sta dando un po' di fastidio Ok non ha funzionato Ma è proprio Garchomp in sé che è devastante Allora facciamo così Ricuriamo la vita del mio Eh beh dov'è Eternatus Shiny E lo rimettiamo in campo Così che con Eternabim Andiamo a shottare definitivamente Garchomp Ottimo Che stava creando un bel po' di problemi E ci prendiamo la caramella rara Curiamo tutta la squadra Perché abbiamo una cosa importantissima da fare E che devo mostrarvi Quindi curiamo il nostro team di oggi Che sarà composto quindi darei cosa? Shadow Eternatus Shiny Dynamax Mewtwo Shadow Terranitar Necrozma E c'ha Arizard E proprio Necrozma Deve giusto un attimino farvi pensare Perché come leggiamo da questo nostro nuovo amico Kudz I Pokémon leggendari classici Sono nascosti all'interno Dell'ultra dimensione Trova il dungeon per sbloccarli Ora Cosa sono i Pokémon classici? Sono Pokémon leggendari Ma che hanno la loro forma La loro espressione visiva Come i primissimi primissimi Pokémon della Pixelmon E sono ultra rari Da catturare E anche da trovare ovviamente E a quanto ci dice questo nostro amico Noi abbiamo sbloccato il loro dungeon All'interno della ultradimensione Ora Come si è messo in aria di Ball? Abbiamo solo una Beast Ball 21 Dusk Ball E uno stack 8 di Ultra Ball Quindi 72 in tutto Non so se posso craftare altre Dusk Ball In effetti posso farlo Potrebbero essere molto utili per noi Per il nostro cattore di oggi Ora Mettiamo qua direttamente le nostre Dusk Ball E abbiamo 37 a disposizione Quindi ancora meglio per noi E stimiamo un attimino il nostro inventario Potremmo craftare altre Ultra Ball in effetti Quindi andiamo a farle istantaneamente Almeno siamo tranquilli Abbiamo tutto quanto a disposizione Anche perché con le Ultra Ball Dobbiamo migliorare le mosse Del nostro nuovo Eternatus speciale Con questo stack 44 Andiamo direttamente dal nostro No Move Linear E reinsegniamo le mosse A Eternatus Ora Toxic ci serve al posto di agilità Dynamics Cannon Pure ci serviva veramente tantissimo Lancia Fiamma Al posto di Recover Anche Una mossa di tipo Fuoco Che è un po' più particolare Sul nostro Eternatus Ci potrebbe fare comodo In qualunque occasione Magari in questo episodio Anche Ma la cosa importante È dirigerci all'interno Di questo portale E dannazione Non ho portato come i Flauti Che ho cacciato qua E possiamo dirigerci Nella ultradimensione Subito L'unico problema ora È capire verso Quale direzione andare Perché ok Si trova nella ultradimensione Ma ricordiamoci Che la ultradimensione È come se fosse un open world Cioè un mondo Infinito Di continua creazione E non ha uno stop Non ha appunto una fine Di conseguenza Sarà molto difficile Trovare quello che stiamo cercando Ma noi ci proviamo Questa è una torre di ghiaccio E qua c'è un dungeon Aspettate un attimo Oh L'abbiamo trovato? L'abbiamo trovato! Ecco i Pokémon classici Mew Zapdos Moltres qua davanti E Articune Lai in fondo Già vedo una potenziale Torre di Articuno Ok Questo vuol dire Che dobbiamo sconfiggere Questo dungeon Ultimate Io a questo punto Vado subito in battaglia E partirei con il mio Eternatus Contro Niki Lego Shiny Ok Particolare Pensavo di trovarmi I Pokémon classici contro Ma a quanto vedo Non è così Io vado a questo punto Di Eterna Beam Che fa tantissimo Ragazzi mi ha tolto Pochissima vita Mamma mia L'Eternatus Sarà devastante Non ho controllato Quanti Max Revive O pozioni Avessi con me Però vabbè comunque ragazzi Ce lo teniamo in questo modo Dato che Eternatus Ha una quantità di vita Incredibile E noi Abbiamo bruciato Niki Lego Ricolpiamo con Eterna Beam E grazie al fuoco Dovremmo eliminarlo Quasi in realtà Eternatus Comunque Sta andando molto bene E abbiamo eliminato Il primo Pokémon Il prossimo Exurkitree Stiamo sfidando Tutte ultra creature A quanto vedo Beh avveleniamolo subito Innanzitutto Dato che lui ho voluto Paralizzarmi E poi vado di Eterna Beam Vediamo se lo colpiamo Tantissimo danno Eternatus Ha eliminato un altro Pokémon E finalmente scendono in campo I Pokémon classici Partendo da Zapdos Che è bellissimo Avveleniamolo Anche a lui E intanto Eternatus Non sta neanche prendendo del danno Ottimo In questo modo possiamo tankare la battaglia Grazie sia alle mie mosse Che anche al veleno Molto bene Infatti a vita rossa Questo Zapdos qua davanti E anche con una mossa stupita Lo andremo a eliminare Articuno Classico Credo che in questo momento Noi dovremmo eliminare Tutti quanti questi Pokémon Per sbloccare i loro dungeon E poterli utilizzare Quindi Ora c'è da attaccare Ed eliminare questo Articuno Con lancia fiamme Ti prego resistimi Che dovremmo essere super efficaci Ma non ce l'abbiamo fatta Abbiamo perso Eternatus Che ha tankato la battaglia Con quattro Pokémon Non ancora Però dopo averlo perso In questo modo Io metterò in campo Charizard Che dynamaxandolo Ed evolvendolo Sblocchiamo la sua versione Bellissima Come una mossa di tipo fuoco Può shottare Articuno E l'abbiamo portato A vita gialla Molto bene Dov'è che è Articuno Che non lo vedo Eccolo qua Che sta saltellando Un po' ovunque Charizard però È stato eliminato Io metto in campo Il mio Rayquaza Che con attacco rapido Può attaccare subito Il prossimo a sfidarci È Moltres Che io vado a distruggere Con Ancient Power Che è una mossa super efficace E infatti L'abbiamo fatto tantissimo danno Mio Dio Rayquaza è stato eliminato A primo colpo Se non sbaglio però Anche il mio Terranitar Dovrebbe avere Stone Age Come mossa Ma non ha attaccato Faccio pochissimo danno Come è possibile Perché sta scansando Tutte quante le mie mosse Ok ora ha preso Un po' più di danno Ottimo Questo Moltres classico È fortissimo Ci sta creando Un sacco di problemi Sta continuamente Curando la vita E con la prossima mossa Lo eliminiamo Il prossimo che è Mi aspettavo Miu Invece è Cartana Ok Che scelta particolare Metto in campo però Il mio Mewtwo Che è stato distrutto Dal primo colpo Beh Ora non dobbiamo rischiare Quindi riportiamo in vita Il mio Eternatus Necrozma Meno male che abbiamo riportato In vita Eternatus Se no avremmo perso La battaglia così all'ultimo E poteva essere potenzialmente Un enorme problema Vado di lancia fiamme Contro Cartana Che siamo super efficaci Ok è shottato Abbiamo vinto la battaglia Abbiamo vinto 100.000 pochi dollari Una Beast Ball Un Max Revive E tre zuppe Per giga evolvere I miei Pokémon Che figata Su Eternatus Su Eternatus però Dannazione Non possiamo volare Vabbè Allora a questo punto Risaliamo la torre In questo modo a piedi Ed eccoci arrivati Ok Il dungeon È attivo Perché abbiamo qua davanti Il totem Di Articuno Sarà ad attivare Con orb Ma là in fondo Abbiamo anche La statua Di Articuno Classico E io Non vedo l'ora Di poter sbloccare Questa prima battaglia Classica Mi sono lanciato direttamente giù Ma fa niente Noi campioncini Ci possiamo fermare qua Però Voi lasciate un mi piace E se siete nuovi Iscrivetevi al mio canale E scegliete il video qua davanti Ciao